avrai che ne so 100 150 mila euro da parte a quel punto tu hai la forza di comprendere che ok posso investire 5 mila euro al mese per far partire il processo e potenzialmente in quanto tempo riusciamo a farlo funzionare in tre mesi riusciamo a portarci un risultato in tre mesi perfetto benvenuto in questo video io sono simone caloni e sono il ceo di scuola per ricchi e del big luca group stai per vedere un estratto di una consulenza fatta da me o da un altro manager o da un'altra figura della scuola per ricchi è importantissimo per me fare un disclaimer iniziale quindi questa intro è molto importante ti consiglio di vederla attentamente faccio consulenza da circa due anni due anni e mezzo e sono quasi arrivato a quota mille ore di consulenza erogate quindi in questi anni ho visto tantissime storie diverse quindi imprenditori e libri professionisti aspiranti tali persone con azienda già super avviata che hanno magari bisogno di alcune informazioni per spingere ancora di più hanno necessità di fare un check insieme a me per capire se ci sono delle cose da migliorare ci sono alcune persone che vengono ciclicamente in consulenza per ottenere delle conferme capire se stanno effettivamente facendo i passi nel modo corretto altri vengono in consulenza proprio per farsi correggere tutta una serie di informazioni sbagliate che hanno oppure tutta una serie di impostazioni errate che hanno nella loro attività di marketing le casistiche sono più disparate possibili sono tantissime anche le casistiche di persone e di business completamente diversi l'uno dall'altro posso vedere in consulenza nella stessa giornata un'agenzia immobiliare un'impresa funebre posso vedere un info business posso vedere una ditta che fa costruzioni quindi che magari un'impresa edile posso vedere un'azienda che si occupa della realizzazione di modellini 3d un professionista nel campo delle assicurazioni un professionista nel campo della psicologia qualsiasi cosa quindi veramente mi è capitato di tutto in consulenza questi sono estratti e come tali senza avere un contesto senza avere un business senza sapere esattamente di che cosa stiamo parlando potrà sembrare non significare niente ma la realtà di fatti è che anche da questo spezzone si possono cogliere tutta una serie di informazioni molto importanti cercheremo di prendere determinati spezzoni determinate parti determinati segmenti di conversazione proprio per far comprendere quali sono le tematiche che magari sono più spinose per un imprenditore un libro professionista cosa vanno a cercare in una consulenza come la nostra ricordatevi sempre che quello che state state per vedere è uno spezzone magari di solamente il 2% sono solamente il 3% il 5% di una conversazione molto più lunga e di una consulenza molto più lunga quindi ti lascio lo spezzone del video ci vediamo a fine video allora ti dico un'altra cosa ti dico un'altra chiave di lettura molto importante perché l'ho vista anche su altri studenti che è proprio il concetto di devo necessariamente sbrigarmi a fare qualcosa questa è una roba che molto probabilmente ti porta al fallimento cioè questa è una di quegli elementi che poi ti porta a serializzare il fallimento cioè faccio una cosa fallisce cazzo mi devo sbrigare devo farne un'altra faccio quell'altra cosa rifallisco cazzo mi devo sbrigare ancora di più eccetera eccetera tutto questo processo ti porta a continuare a fallire a non trovare la strada giusta e autofuscarti la mente quindi cosa si fa in questi casi si torna a quello che sai fare cioè sai fare quello che farei io è da imprenditore quindi mentalità da imprenditore che hai appreso nel tempo quindi non sei più quello che hai iniziato a fare di quello che è passato dai è attestato e ha fatto altre cose io quello che farei è implementare le strategie che tu hai trovato a livello di business a livello di imprenditoria quindi non a livello di marketing oggi oppure il marketing lo applichiamo per lo scopo diverso quindi non per generare vendite ma potenzialmente per trovare collaboratori e deleghi sempre di più tutta questa serie di informazioni che tu già hai preso esempio essere delegati fino all'infinito cioè fino a non dover fare niente ok e puoi utilizzare la tua forza economica per portarti un risultato questa è solo una delle cose perché ti permette di approcciarti al a questa tipologia di attività più da investitore più da effettivamente azionista di una società rispetto a che sono io quello che attivamente fa questa roba qui tutto questo ovviamente dipende da quanto possiamo investire in questa roba qua magari avrai che ne so 100 150 mila euro da parte perfetto a quel punto tu hai la forza di comprendere che ok posso investire 5 mila euro al mese per far partire il processo dei in quanto tempo riusciamo a farlo funzionare in tre mesi riusciamo a portarci un risultato in tre mesi perfetto quanto mi serve di investimento per scalarlo velocemente e portarlo ad avere un ritorno che è pari o maggiore rispetto all'investimento che faccio mensilmente a quel punto deleghi tutto questo aspetto e hai un flusso di cassa non hai un business hai un flusso di cassa funziona ma che hai delegato e che ti porta un risultato a quel punto tu utilizzi i soldi come elemento di stabilità mentale di stabilità emotiva cioè non sei più nella posizione di non ho nessun business oggi guadagno zero o quasi devo per forza inventarmi qualcosa ma hai una base più o meno solida dipendentemente da quello che fai quindi più o meno solida che ti permette di con lucidità essenzialmente è ok ho capito come si gestisce un micro team o comunque come si assume come si crea e come poi si fa scala un micro team che gestisce uno posso fare anche con o un'altra roba e hai ecco che hai due fonti di entrata poi tre poi potenzialmente quattro e tu in realtà alla fine gestisci i CEO se vogliamo di queste micro aziende poi che cosa succede che a un certo punto tu hai abbastanza cash e abbastanza salute mentale per decidere di ok lo sai che c'è adesso io ho in mente che può funzionare sto progetto ho 50.000 euro da poterci buttare tra virgolette o comunque da poter investire in questa roba qui mi studio bene il mercato vedo bene se effettivamente c'è la fattibilità e approccio con lo stesso metodo quindi della delega e del effettivamente costruire azienda anche su questa roba qui non è non è più faccio tutto io ti è piaciuto questo video bene allora lascia un commento qui sotto quindi fammi sapere che cosa hai trovato di interessante e se hai delle domande inerenti alla conversazione che hai ascoltato inoltre ti lascio qui negli infobox o comunque da qualche parte un link per schedulare una call per schedulare una consulenza strategica per capire come noi di scuola per ricchi possiamo aiutarti ad implementare tutta una serie di strategie per far crescere il tuo business o avviarne uno da zero ci vediamo in consulenza ci vediamo in consulenza ci vediamo in consulenza ci vediamo in consulenza Grazie.